guarda che non è una foto però devi chiudere gli occhi chiudi gli occhi non li aprire eh tu non li aprire devo stare ancora con gli occhi chiusi puoi aprire ma mi avevi detto che non l'avevi portato lo vogliamo mettere questo anello o no? che dici? ma mi avevi detto che non l'avevi portato ma tu me lo dai fuori ma sei romantico al massimo iperestresa per l'antrada dai lo dobbiamo provare lo dovo mettere io? di solito anzi oricamente dovrebbe essere così di solito funziona così ma dai Riccardo se io lo prendo so che non sono bravo in queste cose che bello penso è un po' grande è un po' è un po' grande ok ma lo facciamo stringere ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta dai mi metto questo davanti se non lo perdiamo no ma lo facciamo stringere dai ce l'abbiamo fatta pensavi che avevo le dita così ok è fatta grazie a tutti 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 grazie a tutti